salve a tutti ragazzi video paranormale almeno secondo me durante la celebrazione di una messa accade qualcosa di veramente strano miracolo o cosa ragazzi quindi andiamo avanti e guardiamo che succede con l'ostio quindi guardate attentamente ragazzi lo so che a volte vedete si è alzata da sola l'ostia e lievita dal suo piatto guardate ragazzi lo so sembra assurdo però è così quindi sinceramente ragazzi come sempre non posso dare una spiegazione a quello che avviene perché secondo me a essere fake non credo che lo sia perché ragazzi l'ostia si alza dal piattino quindi che effetto speciale potrebbero aver messo qua cioè non è che hanno aggiunto qualcosa anche perché il prete sta celebrando una messa quindi non lo vedo ritoccato oppure fatto da qualcuno quindi sinceramente credo che il video sia autentico per il problema rimane capire come fa quest'ostia a lievitare dal piatto ecco perché ho detto miracolo o cosa perché giustamente potrebbe essere un miracolo ma pure qualche altra cosa che io non so ragazzi per lo meno che nessuno forse di noi sa però come sempre io mi auguro che voi lasciate il commento sotto al video e mi aiutate a capire che diavolo è ragazzi perché qua anche qui non c'è almeno una spiegazione logica razionale cioè tutto sfugge alla nostra comprensione quindi ditemi che cosa ne pensate di questo fenomeno di questa ostia che si alza dal piattino anche se di poco ma lievita comunque come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero